Dopo i picchi delle scorse settimane, la Puglia continua la sua lunga e importante discesa nei contagi da Covid-19. Una discesa che si fa sempre più marcata sia per i contagi giornalieri che per l'occupazione dei posti letto. Ieri si sono registrati 870 nuovi contagi, come da bollettino epidemiologico della regione, che segna però un meno 23,4% rispetto ai precedenti sette giorni. L'incidenza di casi ogni 100.000 abitanti è ora arrivata a 157 in Puglia. Sopra la media regionale, per incidenza, restano solo la BAT con 189 casi e Brindisi che si attesta a 169 casi ogni 100.000 abitanti. Taranto è in linea con il lato regionale, mentre a spingere in giù la Puglia e senza dubbio la provincia di Bari, scesa sino ad un'incidenza pari a 152 casi ogni 100.000 abitanti, marcata anche la discesa della BAT che non scendeva così tanto per incidenza da metà marzo e segna un meno 27% rispetto ai sette giorni precedenti, con una media di nuovi contagi di 100 al giorno. Migliorano anche i carichi sanitari, con i ricoveri ordinari in reparto che in Puglia si attestano al 39% dei posti letto disponibili sotto la soglia critica del Ministero, pari a 1.486 pazienti ricoverati e un netto 9% in meno rispetto a una settimana fa. Per le terapie intensive invece si resta 199 posti letto occupati, con il 34% di quelli disponibili in regione ancora al di sopra della soglia critica, ma con un meno 11% rispetto a una settimana fa. Scendono anche i decessi che fanno registrare un importante 23% in meno rispetto a sette giorni fa. La quota dei 6.000 morti a causa del Covid in Puglia tuttavia resta una traccia importante per capire quanto grave sia questa pandemia. Sul capitolo vaccini a oggi in Puglia sono ormai un milione e mezzo le dosi già somministrate con oltre un milione e centomila persone, pari al 27% della popolazione già raggiunte da almeno una dose di vaccino, superata quota 11% invece per coloro i quali sono completamente immunizzati dal virus.